Quando erano ancora bambini, Andy e Terry Bogart assistono ad un'aggressione subita dal loro padre adottivo, un famoso campione di arti marziali, e allora, seguiti dal vecchio maestro Tang Furu, cercano immediatamente di raggiungerlo. Mentre loro percorrono delle lunghissime scale, loro padre fa in tempo a liberarsi degli scagnozzi, prendersi una coltellata e liberarsi di chi l'ha coltellato. Ma poi viene colpito a morte da Giz, un rivale e allievo dello stesso maestro, leggermente contrariato dal fatto che il vecchio non abbia scelto lui come successore. Quando le lunghissime scale sono finite, i due arrivano al cospetto del padre morto, che, visto quanto ci hanno messo, ormai sarà già in decomposizione. Allora il vecchio maestro dà il loro appuntamento fra dieci anni, durante i quali i due si dovranno allenare per diventare forti, e alla fine del periodo lui sceglierà chi dei due sarà degno di imparare le sue speciali tecniche e potrà quindi vendicare il padre. Ma scusa, ma ti rendi conto che un tuo allievo è appena morto perché hai già creato competizioni di questo tipo? Ti sembra il caso di correre di nuovo il rischio? E poi, domanda più importante, perché non gli insegni subito tu a diventare più forti, dato che sei un maestro? E poi perché non hai entrambi? Magari giusto così per avere più possibilità di successo, no eh? Boh, misteri della fede. Passano i suddetti anni e Terry ormai è un ragazzo cresciuto, e gli sono cresciuti proporzionalmente anche i vestiti e il cappellino, a quanto sembra. Comunque, dopo una rissa in un locale, fa la conoscenza di Joey Gashi, campione di kickboxing, e da lui verrà a sapere del torneo per vincere il titolo di re dei combattenti. Però per ora Terry sembrerebbe più orientato verso il provarci con una, giocando la carta del bello tenebroso che se ne esce con delle frasi alla cazzo. Ad un certo punto, mentre Terry stava mettendo in saccoccia il due dp che è preso dalla tizia, viene attaccato all'improvviso da un misterioso personaggio, che capiamo subito essere suo fratello Andy. Terry, invece, ad accorgersene, ci mette un po' di più. I due vengono raggiunti dal maestro, il quale spiega loro che per avere una possibilità dovranno apprendere la tecnica segreta del Senpuken, il colpo dell'uragano. Come sappiamo, lui lo può insegnare solo a uno dei due, per chissà quale motivo, per cui i due fratelli parteciperanno al torneo, che fra l'altro è organizzato proprio da Geese, che, essendo molto sportivo, fa recapitare vino avvelenato a Terry, ma Lily all'ultimo momento si pente e lo salva, così Terry se la fa, e poi pronuncia queste enigmatiche parole. Non mi rassegnerò finché non avrò liberato l'uccellino dalla sua gabbia. Scusa, ma in che senso? Comunque, i nostri si faranno strada verso le finali sconfiggendo facilmente tutti, e poi arriverà il momento in cui Terry e Andy dovranno affrontarsi. Geese però cerca di ucciderli, ma Joe chissà come se ne accorge e si becca lui la pallottola. Sprizza lealtà da tutti i pori questo Geese, ed è anche uno stronzo, perché mentre i nostri stanno scappando con Joe ferito, lui butta Giulili dalla finestra, uccidendola. Questo ovviamente fa in bestialire Terry, prima suo padre, adesso la ragazza, impedendogli di aprire la gabbia a quel famoso uccellino. Una spericolata jeep guidata dal maestro Tan li porta in salvo, ma il vecchio viene colpito e mandato all'ospedale. Nonostante questo troverà la forza di insegnare a Terry i segreti del Senpuken, un colpo per il quale si deve assorbire il chi della terra per poi scagliarlo contro l'avversario. Tan glielo mostra e poi esala l'ultimo respiro, così, morendo in piedi come una bella statuina. Nel frattempo Andy e Joe si recano da Geese, sconfiggono i suoi scagnozzi e si trovano dinnanzi a Billy, armato di bastone e Raiden, un lottatore mascherato. Con qualche difficoltà si liberano anche di loro e arriva il turno di Geese, che senza scomporsi e con un solo colpo sconfigge Andy. Terry lo raggiunge, così inizia il combattimento finale. Il giovane sembra non avere speranze, dato che Geese conosce già tutte le sue mosse, ma ce n'è una che non conosce, il famoso Senpuken appena imparato. Così Terry glielo spara e Ghis vola via, così, con semplicità. Ci son rimasto male, cazzo. Vendetta è fatta e dopo un omaggio alla tomba del padre, i nostri amici decidono che ognuno continuerà da solo a suo cammino. Fine. Comunque, non per fare il puntiglioso, ma io non ho visto nessun lupo famelico.